La musica ti permette di uscire dalla confusione e della mappa che ti guida nella scelta di tutti i servizi del tuo matrimonio. Il 90% delle coppie vive la progettazione del proprio matrimonio nel caos e a causa di questa pandemia questo caos si è moltiplicato per mille. Tutti lì fuori vogliono farti credere che l'intero successo del tuo matrimonio si basa esclusivamente sulla scelta della location. In realtà non è così, perché ti serve una mappa che ti guida passo passo nella scelta di tutti i servizi di cui hai bisogno. Attenzione, non sto parlando del tema del tuo matrimonio. E se ti dicessi che la musica so che ti sembrerà strano, ma se mi seguirai fino in fondo scoprirai perché non è così. Ed è per questo che ho deciso di regalarti questa preziosa videoguida dove scoprirai come la musica è la tua guida che ti permette di evitare l'errore numero uno che commette l'87% delle coppie all'inizio della progettazione del proprio matrimonio e che le tiene bloccate in balia della confusione. Clicca subito qui sotto e accedi ora alla videoguida gratis. Ciao!